Ore 23.30 di ieri, domenica, una chiamata al 115 per la richiesta dell'intervento dei vigili del fuoco a Corsi in via San Francesco a Bassano, ad andare in fiamme una baracca al cui interno si trovavano un rasa erba e contenitori di plastica di quelli per la raccolta delle acque piovane. 40 minuti di intervento, mentre sul posto sono arrivati anche gli agenti di polizia del commissariato di Bassano che cercheranno di fare luce su quanto accaduto.